salve ragazzi bentornati in compagnia di ramo anzi bentornati più che ben trovati bentornati in compagnia di ramo e quest'oggi come vedete siamo nuovamente su farcry ma come sempre un'altra volta mi ripeto ci vediamo fra un pochino direttamente sul kirat ciao ok uno scambio culturale ci eravamo lasciati qua dove sabal ci diceva di andare al monastero di chaljama per imparare quello che per capire più che altro cos'è che faceva smuovere mio padre mio padre nel senso il padre di ajai un elefante meglio non lo farlo incazzare prendiamoci la piantina ma non c'è un mezzo un velivolo che la strada mi sembra abbastanza lunga e non l'arrivato con l'elicottero no va bene dai vediamo la macchina bellissima da guidare no niente niente radio ma questi fiori lì su cruscotti e qui? ahia qui c'è un guai questo è un evento che arma chi è quello scherziato? qui uno alle spalle la gamba l'ho preso siamo stato così è morto perché l'ho preso la gamba nooo voglio il mio ogni volta sto gioco è così perquisiamo adesso mi volevo attaccare evento karma completato e già si fa sera preservativo ma questo gioco è allucinante gioco depravati siamo a 700 metri mamma mia sta musica infernale la strada dovrebbe essere giusta che abbiamo davanti a noi siccome noi dobbiamo girare qua facciamo un po' alla boe Luke non è il massimo ma io ogni volta nei guai mi devo mettere ci serve un becchino non un medico che ne fai il medico è per i vivi dove diavola è resistente lo fa la testa e non muore l'altro dove dove sei cazzo ti nascondi dove sei bastardo ogni tanto mi fregano sti qua senti come gode è quasi pieno mi serve lo scambista quello che si compra tutte le mie cose busta d'erba con tutta l'erba che ci giro andrò a prendere la busta d'erba le funzioni vanno bene quelle ci servono 286 metri che facciamo ah la piantina che facciamo lo facciamo in macchina o andiamo a piedi direi che andiamo a piedi canzone di Banashur no noi dobbiamo andare no non è qui non è qui non è qui non è qui ci serve la macchina che siamo abbastanza lontani allora vediamo se stiamo facendo giusto vediamo la mappa questo è destinazione siamo a 280 metri ok monastero di Chaljama dovremmo essere arrivati tu non mi dici niente uh che bello devi andare qua dentro e questo brighiera quindi glielo dico so che si arrabbia ma decide lo stesso ti aiutare ma già sono contento di rivederti e chi sei dove ci siamo mai visti ti conosco io oh qui c'è qualcosa monastero di Chaljama Kajama questo monastero venne scavato nella montagna intorno al 500 a.C. e seguaci di Kira si narra che fu proprio qui che vennero messe per iscritto le parole di Kira Kajama è stato preservato e restaurato molte volte nel corso dei secoli ed ancora oggi un tempio e una strana attività addirittura felice nel sapere si imparano tante cose nuove giocando ai videogiochi questo deve essere io esatto banashur banashur dio tra gli dei ha creato il mondo cantando per questo gli rendiamo grazie ringraziamo gli dei per il dono della vita per favore prendi un cestino delle offerte prendi un cestino delle offerte a questo raccogli che vuoi soldi che ci faccio con questo cosa che vuoi tu cosa vuoi fare da fare il giro che brutta gente venerabile la maco gialla ho ricevuto torre tra queste seguite voi ci sono falsa vabbè voi ve lo leggete da soli non ve lo dovevo leggere io ok sto facendo giusto ciao ci conosciamo senti la candela ci ricorda che cresciamo solo quando siamo disposti a superare i nostri limiti e questo è fatto ah ha aumentato l'evento ah ok ok abbiamo aumentato il karma quindi presumo devo farmi il tour il tour della del monastero magari ho l'ho di zunna gra mutu no l'incenso rappresenta la mortalità namaste ma namaste non era giapponese quindi siamo nel kirat scusate namaste potere prestigirizzazione sull'inni sanno sull'inni sanno sanno pagare per liberarci dai pensieri impuri gira la ruota Per favore, lascia qui il cestino. Dove lascio il cestino? Torna da raggio. Sabal parla molto bene di te, ha chiesto che tu potessi assistere, Ylang, il grande demone è in tutte le persone, fa false promesse e brucia la speranza, la capra muore per tenere Ylang assopito e soddisfatto. Giusto. Adesso abbiamo finito, dobbiamo andare via. Adesso è inciso da capra. Questo abbiamo già letto. Sì. E che ho visto questo incenso? Difendi il monastero. E ti pareva? Ma quanti siete? Stanno distruggendo le icone. Che sono le icone? Stanno portando all'armeria. Ascolta, datemi una mano eh. Icone, armeria. Cosa? Ehi, distratte gli idoli. Amore. Mi serve una mano gente. Ehi. Ehi. Cazzo. stanno attaccando i monaci ma mettonati i coglioni imparate a difendervi monaci statui sacri ma chi dovevo salvare io e questo è fermo ma non mi dai una mano pezzo di merda arrivano stanno arrivando gente inutile ecco manca solo che mi ammazzio da solo cioè non è impossibile ragazzi porca miseria mi servono armi sono bottiglie e ve la fate la prova ma quanti siete ma che cazzo dov'è ma stai pensando sul serio o che cosa andiamo davanti no ragazzi non ce la posso fare non ce la posso fare sono troppi ancora no sono in troppo quello è morto ci ha lasciato le penne è la fine si per me si mette proprio male devo pure curare ecco cazzo dove sei porca merda questo è sempre più resistente questo è sempre più resistente no sono troppi aiuto mi arrendo mi arrendo non ce la posso fare 30 secondi 30 27 25 ecco 20 secondi se ma sono troppi che cazzolini ma sono vista brutta il zaino pieno il zaino pieno vi serve qualcuno per vendere le cose questa cos'è torniamo da raggio mamma mia ma sono vista brutta questa volta è finita vedi ecco cosa succede quando la gente abbandona la religione ah già poteva andare molto peggio e me lo dici grazie uno scambio culturale ma non assolutamente equo io ci lascio le penne e loro hanno baricati dentro quindi per questo punto dentro tutti quanti oggi ragazzi sono dislessico per questo appuntamento è tutto ci vediamo alla prossima sempre su far cry anzi non sempre anche con altri giochi quindi però ci vediamo il prossimo appuntamento con far cry ciao un saluto di quanti da ramo alla prossima